Allora, Cascino San Fedele, qui c'era una chiesa prima e sui resti ci hanno fatto questa cosa qua, è stata fatta dal 1803 al 1825, vedete le finestre a bifora, che sono quelle in mezzo tagliate, quelle sono prese dalla chiesa di Santa Maria Imbrera a Milano e sono del 1500 le finestre, a parte che nei secoli è normale che a Milano si prendano i pezzi di monumenti si portano via, è una chiesa che hanno demolito quella di Santa Maria Imbrera 500 anni fa e quindi qualcuno ha preso dei pezzi e li ha portati qua per fare, no l'hanno demolita meno di 500 anni fa, perché questo l'hanno fatto nell'800, però le finestre sono state realizzate 500 anni fa, quindi sono molto più vecchie di tre secoli, un edificio di due secoli, le finestre sono più vecchie di tre secoli dell'edificio.